Ecco il Centro Racinale Fasano Conforama, in poco tempo, rapidamente allestito. Allestito grazie a tante persone invisibili, perché quando accadono queste cose o quando si celebrano queste cose, di solito in prima linea sono quelli più visibili, invece questo è preso possibile anche dal lavoro di tante persone invisibili che si sono adoperate lavorando anche sabato e domenica. Fasano Conforama, il più grande centro vaccinale di Puglia, 4.000 m2, 12 postazioni raddoppiabili fino a 24, situato all'incrocio tra le più grandi e importanti arterie della Puglia e al centro della Puglia. Ora, queste due caratteristiche a che servono? Servono a raggiungere nel più breve tempo possibile l'immunità di popolazione, perché più grande il centro vaccinale e più il personale ha la possibilità di garantire la continuità dell'erogazione della vaccinazione. ecco perché è importante che si replichi ovunque, perché io vorrei che non rimanesse qui il primato pugliese, anzi sulla base di questo adempimento del dovere altri magari vedendo il centro Fasano Conforama possano adoperarsi per renderlo ancora più grande, perché nella pubblica amministrazione quello che importa è fare il proprio dovere e non mantenere primati, sempre per raggiungere l'immunità di popolazione nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti.